ahahah 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 vado a parlarti sotto le asceni ah! giusto! cos'è? ah giusto eh! trapezio steroidi mamma luco oculamam 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 trepiede sofonisba abzinofos ma è troppo facile new york ahahahah no, croiune! e qui nozio oitsonyuke sembra il nome di un giapponese non è normale isola di pasqua auxapidalosi e con questo me ne vado perchè mi avete rotto i coglioni mi avete rotto i coglioni inolgokik ottor ettevaiim vatooo adesso però prendiamo il filmato lo giriamo al contrario e vediamo se è vero scusa certo che è vero intanto il montaggio lo fa Fabio vero? no e chi lo fa? il montaggio lo fa Fabio oi baffo oi gatto no ma e guanagza non è autismo fratella ma andiamo al casino